per decenni è scomparso è senza dubbio il personaggio del momento è stato il fondatore del fascismo il capo del governo l'italiano nuovissimo e vostro nome benito mussolini però un film su di lei potrebbe essere una bomba il mio obiettivo di viaggiare per l'italia e di riconquistarla sareste d'accordo su una dittatura ma una dittatura libera però una dittatura non troppo dittatura egiziani rumeni albanesi sopprimerli le pecore hanno bisogno di un pastore benito punto mussolini occupato ma dux 2018 libero io non sono dux 2018 super uomo non c'è tascio camicia nera eccellenza lui preso e che cazzo e che cazzo è libero lasciatemi cantare con la chitarra in mano progetti per il futuro eravate un popolo di analfabeti dopo 80 anni torno e vi ritrovo un popolo di analfabeti non c'è non c'è